salve a tutti ragazzi ebbè per dire a seguire questo nuovo video di Nioh terza run allora porto a fare un po' il dojo per prendermi la mia arma se me la dava verde divina mi ha dato solo questi divini come sono messi vedete però sono a livello basso pensavo che le DS 150 invece non è così e quindi niente adesso devo provare a fare questa e vediamo cosa succede penso sia un altro bosso così a naso e spieghiamo bene ho guardato gli spiriti guardiali per vedere se c'è esattamente uno adatto a me quello che abbiamo adesso perché secondo me è il più adatto se no c'è quello di Okazu che ci dava ninjitsu più 45 o di più insomma mi ricordo più di 40 sicuro che è tantissimo sono più di 20 livelli normali mi aumenta tanto però vado a perdere ninjitsu limitato vado a perdere danno da dietro attacco rapido e bonus danno da gita che sono tutte cose ottime ho comprato la skin di okazu già ho comprato con i soldi della si provato volete viagimarmi ci ho provato lei era del ghiaccio quindi vedete il fuoco insieme però lui è molto veloce che cazzo ho provato a schivare fino all'ultimo ma non c'è stato verso di prendere basta quindi devo pensare a lui prima ho livellato ma non è servito a un cazzo niente vediamo se così facciamo qualcosa intanto mi da ninjitsu limitato cosa buona direi che è andata bene lei è un dito in culo lo so però se facessi così perfetto è piano piano dai che dite ce la faremo per me no assolutamente no però forse ce la faccio dai perfetto ce l'abbiamo fatta dai piano piano ce l'abbiamo fatta vediamo cosa salta fuori ah da quello lì era soltanto questo soltanto che bello ce l'abbiamo un cazzo vabbè amen andiamo a prendere un po di soldi allora vediamo un po ci dà armatura di merda armatura di merda questa invece armatura coteca io guardo ci guardiamo la cosa rigama ci ha dato qualcosina qua e là però non di tutta sta bontà insomma vediamo se c'è rimasto qualcosa non sembrerebbe di no vai sì vediamo cosa ci ha dato va che è meglio questa che per carità sarà anche buona 100 questo è buono 144 per carità è però è pesante pesante vabbè facciamo quello che possiamo andiamo avanti che è meglio il ninjitsu è più potente in noi certo che se avessi messo con l'altro spirito guardiano che dava il ninjitsu più 40 45 non ricordo 50 quello che è facevamo molto 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 più danno però tutto il combattimento normalo si andava a fare il paese insomma ci devo pensare perché se riesco a fare tutto con il ninjitsu recupero parecchio però non ho il ninjitsu limitato e quindi mi blocchi sempre delle grandi giorni dopo ci andremo a vedere mi hai sbloccato un'altra qua 155 e 155 codama non ci sono vero ci dà tanto cioè questo ci dà poco non lo so cosa sia ma questo ci dà 200.000 di gold saranno detto in culo farla livello massimo di difficoltà livello massimo di difficoltà quindi non c'è differenza ci provo e crociamo le dite insomma non l'ho mai visto sono in blind totalo con questo con questi episodi qua ne ho mai giocato e ne ho neanche mai visti quindi qua è ok io mi sono protetto ma non è bastato ok ok forse forse qualcosa facciamo ok sono fatta non so cosa ci sia e adesso facciamo così una recuperata la farei ok vai aia 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 ok ok vai 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 di più di botte ciò mi ha fatta mamma mia tremendo allora vediamo un po' un altro più uno grande così mi sei piaccionato siamo tutti da parte così li portiamo su quando riuscirò perché nel 2 era una cacata portare insomma qui costa eh accidenti ehm non mi interessa perché è buono eh però perdo il pezzo tutta roba buonissima sono contento di averla trovata vediamo così da qua un punto ninjitsu due punti sono tantissimi è un livello e quindi sì ce l'abbiamo fatto dai sono contento abbiamo un sacco di amarita e ci può essere tanto utile sto punto stavo pensando se provare di fare questo ovviamente non ci darà quello che ci ha dato adesso però se metto potenza ninjitsu più 45 con quel spirito guardiano magari facciamo tanto tanto in più da provare tanto non combatto qui eh tiro solo ninjitsu non mi dà limitato per carità quindi è una cosa in meno però ci ha dato questo P buono se io adesso lo rifacessi mi dà sempre le stesse cose è sempre gli stessi soldi mamma mia che cosa ottima santuario eh riveliamo mettiamo questa eh due punti ninjitsu così abbiamo fatto altri due punti ninjitsu che non è male e allora a questo punto voglio fare una prova con voi lo so che magari vi annoiate però è una cosa interessante santo quello di Ocasio noi abbiamo quel pipistrello quello di Ocasio è il coniglio vedete che dà potenza 75 porca vacca proviamoci dai io pensavo 45 pensate voi che è lato di pirla eh cosa faccio niente tutto qua sto pensando era questo vero eh sì proviamo dai cosa ci costa infatti è una figuraccia di merda che quello vabbè ci sa la faccio sempre ok ce l'ho fatta però mi trovo più con l'altro che vi devo dire purtroppo è così ce li dà così va bene e quindi non ce li dà come ah beh sì li ho trovati ovviamente adesso vi faccio vedere ho trovato un sacco di roba eh questo è un più uno lo otteniamo eh quindi siamo a posto questo è un più uno lo otteniamo addirittura un più due ma saloscia ma com'è la struttoria più due cazzo buono ci fa 198 più due tanta roba sono contento allora rimettiamoci il nostro spirito guardiano perché abbiamo visto che comunque non c'è niente da fare eh preferisco l'altro che è il nostro pipistrello che se lo trovo dove cazzo ha finito pipistrello questo qua vediamo un ingizio pazienza però abbiamo quello limitato allora cosa facciamo abbiamo quasi livellato quando ci vuole scusatemi una mia 150.000 non ce la faccio a farle adesso però abbiamo fatto un sacco di soldi eh 600 oddio un sacco avevo un milione due milioni e mezzo avevo se c'è un caso vabbè questo ci dà molto meno però ci dà un'arma divina e un'altra divina beh è una pietra d'anima giganto beh non è malo vediamo un po' che cosa c'è perché non ne ho idea e quindi sono anche molto eccitato dal fatto che di fare cose nuove sono io dai mi fa piacere vediamo un po' penso sia un altro boss non lo so eh non sembra ok oh sei morto oh come mi trovo bene con un cazzo guardate salve adesso arrivo anche da lei scusi sa eh si sperate un attimo sperate un attimo ok adesso arrivo anche da lei signoro eh si preoccupi si si faccia quello che vuole lei faccia 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 venga pure signore insomma a un certo punto non se lo chiede no e se lo fa poi lui non mi piace voglio dire proprio col cuore certo che sono tanti eh oh salve è stato piacevole ma voi finché andate avanti no no non hai capito un cazzo te e neanche te c'è voi è stato bravo questa è andata ok bene perfetto ok non vedo un cazzo perfetto benissimo oh cazzo eh no non lo aspettavo eh porca vacca eh sì ma cazzo sei arrivato hai subito attaccato e mi hai subito sfondato cazzo dammi tempo di capire cosa c'è se non vedo non so è un bel problema questo eh eh vabbè cioè vedete se io eh come posso dire eh eh schivo dovrei dovrei prendere in faccia è andata proprio così è andata porca vacca non si fa così però è da stronzi ok allora aspetta un attimo anche questo non toggo delle palle almeno siamo a posto eh sarà divertente eh ah non l'ho preso com'è possibile che non l'ho preso dai allora questo l'ha schivato ci può anche stare ma che non lo prenda no no te non mi tiri ste cose eh comunque non se lo chiede se lo domanda e se lo risponde ahia i denti sono terribili eh sì questi sono più forti effettivamente eh devo avere pazienza e non avere fretta ok questo è andato perfetto eh piano piano no no non hai capito un cazzo ok perfetto non so quanto infinito mi abbia dato però almeno adesso tocca a te eh non è non toccava lui nel senso ce ne sono anche altri ma io penso lui sia più fragile ahia non sarà facile lo dico subito però è divertente cioè nel senso li abbiamo le abilità usiamole no cazzo le tengo a fare lì oh bravo e questa è andata noi abbiamo ancora due oh cazzo eh ma sì ma ne quante ne arrivano io capisco che siamo il leggendario pensiamo a cazzo ok va bene va bene eh lo so mi ha sfondato il culo oh ma io stavo bevendo figlio di troia ma che cazzo c'hai l'armata delle tenebre a posto del fucile eh non riesco a allocarlo eh ho mangiato buonanotte ok poi ho metto che prende a lui perché si fa troppo malo eh no ah ne ha tirati due strano ma dove va con lock porca vaca che lock perde ok questa è andata aspetto andiamo qua e niente aspettiamo ok perfetto andata chi altro c'è la musica si è attenuata oh porca mi ha fatto cacare in mano eh ma come cazzo lo batto questo oh porca miseria non si può fare una roba del genere eh da stronzi proprio ok porca vacca è proprio da stronzi stronzi eh ci sta provando non mi fa schivare ragazzi io cosa devo fare più di così purtroppo ogni volta che ti prende la volta che ti prende lo fulmino è finita non penso di farcela ve lo dico in modo schietto proprio perché due alla volta io non li posso gestire e ogni volta mi incominci da capo quindi non mi piace come cosa per niente tolgono troppo è una roba esagerata io non faccio il danno che dovrei fare quindi quindi penso che lascerò perdere almeno questa non ah vedete perché sono troppi due da gestire arrivano sempre in due ok e quindi penso proprio guardate quanti colpi devo dargli per riuscire a ucciderlo troppi e non mi sono neanche curato tutto tolg eh che cazzo ci posso provare ma poca convinzione di farcela comunque loro sono veloci a me che sono delle proprie molli ok mi ha dato delle belle cose danno delle belle ricompese non c'è niente che dire ovviamente il lock poi non funziona io il ninjitsu ce l'ho forte per carità però loro non è che siano eh si è anche preparato questo ce l'ho forte eh però schivano e niente ci tolgono più di quanto vogliamo noi ok ci da tanti item eh per carità al mondo ok oh cazzo vai a meno risparmiamo un po' di ninjitsu per dopo perfetto certo che sei un po' più lento eh ragazzo perfetto ma io prenderei un attimo qui dai per la giornata non posso stare tutto il giorno qui eh è che l'altro è veloce ok dai in che avanza lo prendo ok adesso questo ci penso ahia ci penso il cazzo no che ce n'è un altro ce la posso fare mazzani uno ma due in contemporanea è molto dura ecco anche perché fanno questo loro ok ninjitsu limitato ogni stanza arriva e io devo curarmi assolutamente ok che cazzo ok è andata una curatina una locatina vediamo un po' di roba perfetto e adesso eh eh non è andato bene eh per un cazzo troppo lui c'ha un brutto vizio di fare un attacco ad aria esageratamente ampio ok adesso cammettola eh ci hai provato eh ho preso il palo ho preso il palo ecco qua perfetto gli ho dato una sfraganata che se la ricorda per fino a capodanno ok benissimo aia questa non mi è piaciuta e il problema è rimane sempre lo stesso ecco così si è posto e anche questa è andata perfetto dovrebbe bastare a quanto pare no oh cazzo mi ha dato tanta bella roba però il problema è che io questi due non riesco a sfrontarli sono troppo troppo forti ok e adesso sono cazzi da cacare io due non ce la posso assolutamente fare a gestirli e niente mi hanno spaccato il culo cioè si fa non è che non si faccia per carità non fa intendetemi però è veramente dura è perché quando quando colpiscono questi non è che ci vanno leggeri vabbè dai lasciamo perdere io adesso farò mi arrangerò in qualche modo quindi ragazzi come al solito vi invito saluto anche un commento se piacere se piacerebbe sapere cosa ne pensate per la 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 c'è ciao